Ragazzi, tutti voi sapete che questo non è un canale di recensioni, ma è un canale tecnico dove insegno a produrre la vostra corrente. Ogni tanto capita uno di questi video proprio nella playlist di questi mi fido. Di cosa si tratta? Si tratta di un video di un'azienda che ha voluto finire sul canale e voi non potete immaginare di quanto e purtroppo non ci finiscono perché sono costantemente contattato da aziende che però non rispondono a questa mission. Ebbene, questa azienda è un'azienda che vende pannelli fotovoltaici smontati dai campi fotovoltaici. Voi sapete che periodicamente dopo anni i pannelli vengono sostituiti per dare un'efficienza diversa in funzione di pochi watt in più, ma che hanno nuove tecnologie e pannelli più grandi. C'è tutta una situazione commerciale dietro. Ebbene, questi pannelli devono seguire certe caratteristiche di qualità. Adesso io vi spiegherò di cosa si tratta, andremo poi sulla mia scrivania e andremo ad analizzare che cos'è un pannello usato di qualità, che cosa vuol dire, che caratteristiche deve avere. Ovviamente ragazzi parliamo di pannelli usati, quindi dovete anche avere una tolleranza sul fatto che sono stati nei campi fotovoltaici per anni. La cosa importante è che l'azienda sia seria e questa lo è, poi me lo direte anche voi nei vostri commenti, è che vivendo un pannello usato, che a un prezzo irrisorio, possa soddisfare le vostre richieste. A chi è indirizzato questo pannello fotovoltaico? A tutti coloro che avendo dei budget ridotti, possono creare un impianto fotovoltaico a basso costo. Ragazzi l'avete visto nell'immagine iniziale? 25 euro per un pannello di questa potenza, di questa qualità? È niente, non è niente. È vero che i pannelli oggi stanno scendendo come prezzo, abbiamo i nuovi che sono molto più abbordabili di un passato neanche troppo in là. Però questo usato a 25 euro dà la possibilità a chiunque di creare un campo fotovoltaico con 6, 12, 24, 36 pannelli e aver speso veramente poco. Ragazzi vi dico subito che questi sono policristallino, cioè rispondono alla caratteristica che avevo descritto nel video precedente dove parlavo della differenza tra policristallino e monocristallino. Ebbene vedremo tutti i dettagli per andare a capire cosa sono questi pannelli e colgo l'occasione anche per descrivere ancora e ulteriormente con tanti dettagli che cosa vuol dire un pannello di qualità e le varie configurazioni. Buona visione! Ebbene ragazzi parliamo un attimo di pannelli usati, nuovi, monocristallini, policristallini. Ebbene c'è tanto da dire sui pannelli, avete visto che ho già fatto un video molto tempo fa e più di uno anche sui paralleli, sulle serie e quant'altro. Allora la differenza fondamentale tra un pannello monocristallino e un pannello policristallino riguarda due o tre cose che un tempo erano fondamentali. Oggi invece si sono leggermente allineate. La tendenza generale è quella di acquistare pannelli monocristallino. Perché? Perché hanno una leggera durata in più. Ma quando parliamo di durata, e questo ci tengo a dirvelo, che cosa stiamo dicendo? Di quanti anni stiamo parlando? Ebbene la garanzia ufficiale sui pannelli di tutti i costruttori di solito è 25 anni. Perché una garanzia doveva esserci. Ma come ho già detto in altri video, io ho venduto dei pannelli del 1980, i miei primi pannelli, ed erano ancora funzionanti. Avevano ancora circa l'85, 90, 95 a seconda dei pannelli, di efficienza rispetto al pannello stesso. Ebbene cosa significa questo? Che passati 40 anni i pannelli non si sono deteriorati. Quindi il pannello, il cui materiale è silicio e altre componenti, non è facile da estinguere. Come il vetro, sono sostanze che durano e durano tantissimo. Questo fornitore dopo le varie contrattazioni, ebbene è entrato nella lista di questi mi fido, questa playlist che riguarda proprio coloro che finiscono su questo canale, perché io ho comprato da loro, io mi sono fidato. Non è una lista nella quale entri e ci resti. Tant'è vero che se andate a guardare i video, in tutti i numeri manca il numero 2, perché è un'azienda che è stata eliminata dal canale. Ora, pannello stavo dicendo monocristallino o policristallino. La differenza sostanziale è la tipologia di produzione in funzione del sole, cioè dove si trova il sole. Ebbene, il monocristallino è risaputo che quando il sole è al suo zenith, cioè perpendicolare al monocristallino, produce di più, mentre quando si trova all'alba o al tramonto dello stesso, produce meno. Ecco perché invece il policristallino produce in maniera più uniforme, cioè in qualsiasi posizione, ovviamente perpendicolare producono tutti sempre di più, però in qualsiasi posizione alba e tramonto, se noi confrontiamo un policristallino con un monocristallino, vediamo che il poli produce qualcosa di più. Ora perché dico, l'ho detto prima, che oramai tutti si stanno orientando su qualsiasi tipo di pannello, perché quello che conta alla fine è il prezzo, per essere molto sinceri. Ci sono dei pannelli di grandi marche che sono molto costosi e alla fine cos'hanno? Ragazzi, l'1% in più, il 2% in più di produzione, il 3%? Ebbene, io su questi pannelli molto costosi sono contrario, perché non hanno un prezzo che è commisurato all'effettivo valore del pannello. Ma quando devo parlare di un pannello che ho pagato il nuovo 180, 200, 220 euro e invece lo stesso di una marca famosa, che tutti ben conosciamo, e costa il triplo o il doppio, ragazzi, io prendo questo, ovviamente. Poi la scelta policristallino-monocristallino, oggi è diventata anche difficile perché tutti i produttori si stanno orientando sul monocristallino. Significa che il poli è anche abbastanza introvabile. È diventata un po' una rarità per cui in certi momenti può essere anche costoso. Ma torniamo a noi. Questi pannelli vengono venduti da Davide, che è il referente di questa azienda, di cui sotto a questo video trovate il link. Come funziona? Cliccate, un link WhatsApp, quindi potete tranquillamente chattare da WhatsApp e gli mandate un messaggio. Già c'è una risposta automatica. Come cliccate c'è già una intro dove si dice Ciao, sto chiamando per il canale di Gianni e sono interessato ai pannelli. Scrivete, aggiungete a questo testo quello che volete voi. Sono interessato a 36, 10, 20. Dite voi quello che volete e dovete avere pazienza, perché dato che questa azienda fa revamping, cioè vanno a smontare i campi fotovoltaici e accumulano tutti questi pannelli nei capannoni, ebbene non sono sempre sul posto. Quindi in qualche ora, nella giornata o al massimo il giorno dopo, vi risponderanno. Davide ci ha tenuto a evidenziare questo aspetto per non fare figura, perché di solito sapete che quando uno manda un messaggio voglio comprare, la nostra risposta sembra quasi istantanea, perché stai vendendo, vuoi rispondermi o no? Ebbene Davide ha detto di dipazientare, perché purtroppo se io sto smontando nei campi o sto caricando sui camion, non posso rispondere. Ebbene attraverso questo link comunicate con Whatsapp direttamente con lui o con la sua segretaria e vi risponderà nel tempo logico. Ovviamente ragazzi parliamo di revamping, cioè quando loro smontano hanno i pannelli, ne hanno migliaia, però l'avete visto per come va questo canale, Davide stesso mi ha detto in funzione delle chiamate, in funzione delle vendite, poi potrò rimanere anche un po' di tempo, un mese senza, quindi tutti coloro che chiamano, se arrivano nel momento in cui abbiamo il magazzino pieno, come adesso ovviamente, soddisfazione massima per tutti. Se no, io accumulo questo ordine al primo revamping che c'è, vado a soddisfare le richieste. Una cosa importante, dato che il magazzino si trova in provincia di Brescia, potete andare anche direttamente a prenderli. Ebbene potete anche da Davide andare a ritirare personalmente, quindi pagate sempre lui prima, dopodiché fate il ritiro in magazzino. Comunque attraverso il WhatsApp potete dialogare, mettervi d'accordo su tutte quelle che sono le burocrazie. Se invece volete usare la consegna, cioè lo spedizioniere che ve lo deve portare, lui usa solo spedizionieri nazionali. Ovviamente ci vogliono circa sette giorni dall'ordine, che è esattamente la spedizione, e il costo della spedizione ovviamente dipende da due fattori standard, i classic, cioè dal cap, cioè quanto siete lontani, e dalla quantità dei pannelli che prenderete, perché questo incide su quello che è il costo di trasporto. Attenzione, quando compriamo pannelli usati, ecco perché questa azienda è finita su questo canale, dobbiamo sempre stare attenti. Quindi Davide ha voluto evidenziare anche che non sono nuovi i pannelli. Quindi se trovate tracce di sporco, se ci sono bavette, dei riflessi di colori sui pannelli diversi, nelle celle, eccetera, è una cosa, oppure una piccola ammaccatura sul telaio, eccetera, è una cosa classica di un qualcosa di usato, non vogliamo essere pignoli su quello che è l'usato. L'importante, lui me l'ha confermato, perché le richieste io le faccio, come sapete, molto serie, l'importante è che questo non vada a influire su quella che è la resa del pannello. Quindi la resa è comunque alta. Di che potenza stiamo parlando? I pannelli che ha lui sono quelli smontati circa 7, 8, 9 anni fa e sono pannelli che si usavano all'epoca, cioè tra i 220 e i 250 watt. Non si può fare una richiesta specifica perché quelli che ci sono saranno quelli che lui venderà. Il prezzo per tutti i pannelli è sempre 25 euro, ragazzi. E inoltre sono fatturabili, quindi sono 25 euro più IVA. Quindi, vabbè, è un prezzo, ragazzi, inesistente. L'ho detto all'intro di questo video che questa opportunità che ho voluto mettere sul canale per coloro che con, ragazzi, con 10 pannelli, 12 pannelli a 25 euro, cioè avete fatto con 300 euro circa il vostro impianto fotovoltaico. Cioè non esiste, non esiste. Gli usati fino a 6 mesi fa si vendevano tra i 70, gli 80 e i 90 e io vi dissi, se guardate il video, non si comprano più di 50 euro, ragazzi, perché è esoso il prezzo. Oggi c'è la risposta a quell'affermazione che feci. Cioè abbiamo la metà di quello che per me era il minimo. Quindi a 25 euro, io stesso, li avete visti, ne ho 14. Quindi questi saranno ovviamente utilizzati. Questa è la capacità tra i 220 e i 250 watt. Questi sono i pannelli, ragazzi, ve li faccio vedere da vicino. Sono i classici poligristallino con le 60 celle classico e sono ovviamente usati, quindi potete trovare un po' la cornice un po' sporca, un po' graffiata. Adesso sono stati a terra, eh. La cosa bella è che questi sono i tre busbar, vedete? Questi sono uno, due e tre busbar. Anticamente si usavano i due busbar, quindi migliora anche la conduzione e l'efficienza del pannello stesso. Questa è una cosa importante e chiaramente vedete, ve lo faccio rivedere quando vediamo una cornice un po' sporca, un po' usata, è normale di un pannello che è stato per anni, per anni, per terra. E qui, ragazzi, ve li faccio vedere in piedi. Questi sono i pannelli usati. C'è da fare veramente in piantini belli con quattro soldi, ragazzi. Qui vedete le celle come sono omogenee. Questa è una cella, vedete? Una cella è questa qui, questo quadrato con tre busbar e sono tra di loro molto omogenee come colorazione. Non sono celle scottate dove vedete proprio una cella che è diventata marrone o nera, quindi rovinata. Cioè, qui abbiamo un pannello di qualità e a prezzo inesistente, ragazzi. Ragazzi, vi faccio vedere anche l'etichetta posteriore a questo pannello. Ovviamente non saranno tutte sempre così le etichette perché dipendono e dipenderanno dall'otto che andrete ad acquistare in quanto Davide, secondo il campo fotovoltaico che va a smontare, troverà un'etichetta specifica in funzione dei pannelli che andrà a togliere. Ebbene, se guardiamo i parametri, questo è 235 watt ed è 30,1 volt e 7,81 ampere. Ma ragazzi, i parametri che vi ho sempre detto di guardare sono questi due, cioè il VOC 36.9 e l'ISC 8,44. Ebbene, 36,9 volt di pannello è superiore a 30.1 dichiarato qua nel rated voltage. Questo perché? Perché ci sono delle possibili produzioni superiori del nostro pannello. Questo quando abbiamo rifrazioni di neve, questo quando abbiamo delle condizioni speciali o particolari dove il nostro pannello potrebbe anche produrre di più. Ma non produrrà mai oltre questo. Ecco perché e oltre questi ampere, scusate, quindi 8,44 superiore a 7,81 e 36,9 superiore a 30.1 ecco perché io consiglio sempre nel calcolo del vostro impianto fotovoltaico quanti pannelli mettere in relazione al nostro regolatore di carica che dovrà gestirli ebbene considerate sempre questi due dati. Se moltiplicate 36,9 per 8,44 la cifra sarà superiore avrete più watt ma non li produrrete quasi mai ma sarà utile per far come dico sempre respirare il vostro regolatore di carica. I pannelli ragazzi oltre che fattuati sono anche garantiti perché lo dice la legge italiana quindi per due anni non è una garanzia non è una garanzia ovviamente se voi rompete una garanzia una volta verificato mi raccomando quando arriva l'autotrasportatore verificate che tutto a posto bene da lì partono due anni di garanzia su difetti di fabbrica cioè difetti all'origine non su quelle che saranno poi le vostre manipolazioni ovvero i vostri montaggi i pannelli l'ho detto già un paio di volte sono i cosiddetti policristallini 60 celle però Davide mi dice che a volte capitano anche i monocristallini quindi chi deve usarli per un inseguitore ad esempio il monocristallino è sicuramente meglio ha un'efficienza leggermente superiore invece per impianti classici con il monocristallino se avete soprattutto falde est sud ovest dove il sole non l'avete mai a parte quella sud che è più univoca ma il resto diventa già inclinato dopo la prima oretta ebbene il policristallino ha una resa leggermente superiore rispetto al monocristallino ragazzi spero di aver fatto cosa gradita segnalandovi questo di questi mi fido questa azienda che è entrata nel canale spero che abbiate risposta a quello che cercavate cioè un pannello economico usato che ne valga la pena che possa farvi creare impianti significativi chiaramente di voi non saranno solo utilizzatori ma saranno anche le aziende vostre che ai vostri clienti direte ragazzi c'è l'opportunità di risparmiare attraverso l'installazione di questi pannelli usati se preferisci e quindi io spero che siate tutti soddisfatti come spero che sia soddisfatto Davide nell'esaurire i capannoni che ha visto che ha appena fatto un revamping cioè uno smontaggio total di un campo fotovoltaico ragazzi questo è quello che accade su questo canale spero che vi iscriviate e ci vediamo al prossimo video buona serata grazie a tutti